Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Gravissimi disordini nel capoluogo campano, dove i festeggiamenti si sono protratti oltre le prime luci dell'alba. Tuttavia la festa è ben presto degenerata in azioni inconsulte, tanto che si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, ma non è bastato. Tra gli scoppi dei fuochi d'artificio in tutta la città, in Piazzetta Volturno si sono uditi, ben distinti, anche dei colpi d'arma da fuoco. Gli spari hanno prodotto ben quattro feriti, dei quali uno finito in ospedale in codice rosso. A distanza di pochi minuti, dopo i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, è arrivata la doccia fredda, Vincenzo Costanzo, un ragazzo appena 26enne. Purtroppo non ce l'ha fatta. Una serata che doveva essere di festa si è trasformata presto in... Oltre a Costanzo sarebbero stati colpiti altri tre ragazzi.